Poi Lascoli subito in gol, c'è questa bella finezza di Carannante, il pallone a Scarafoni che è di testa in sacca, è l'1-0. Casagrande apre per Dell'Oglio che viene fermato così da Corradini, per l'arbitro e il rigore, il primo che Lascoli ha dopo 41 giornate e Giovannelli lo trasforma, 2-0. Ma vi dicevo Lascoli era in gran forma e ha continuato a sfoderare gioco, qui è Ughito che lancia benissimo Carannante, che fa una lunghissima fuga, beffa Lorieri e sigla il 3-0.